Il forte vento proveniente da Nord non ha fermato e anzi non ha ottenuto maggior forza l'equipaggio di Domenico II che all'Erici ha vinto la seconda edizione della regata di Velle Lattine Trofeo Banca Mediolanum. 14 le imbarcazioni provenienti a tutta Italia che si sono date battaglia. 14 le imbarcazioni provenienti a tutta Italia che si sono date battaglia nello specchio d'acqua antistante il porto della città Ligure spazzato nella seconda giornata di gara sabato da un forte vento di Tramontana tanto che una delle imbarcazioni è dovuta rientrare in banchina trainata dai gommoni di soccorso dopo una scufia. Nessun problema per la barca sarda con a bordo Luigi Scotti, i fratelli Luigi e Carlo Azzena, Antonio Addis e Antonio Nuvoli che si sono giudicati in tempo reale e compensato le due prove che si sono svolte nelle giornate di venerdì e sabato mentre domenica la Lega Navale di Lerici e il circolo nautico Erix, viste le proibitive condizioni del mare, hanno sospeso la competizione. Nella classe A, quella delle barche più piccole, ha vinto Ucain Negru che si è giudicata anche il trofeo Doero a conclusione del ciclo di regate Liguri mentre per la classe B, Vittoria, per Domenico II Distintino, una regata particolarmente importante per il mondo della vela latina perché per la prima volta le due associazioni che riuniscono gli armattoi ai Vele e Univet hanno unificato i loro regolamenti nell'interesse comune di promuovere l'antico armo della vela latina. Prossimo appuntamento a Piombino per il campionato nazionale. Grazie Grazie a tutti.